C'eravamo lasciati con l'applicazione funzionante e la creazione della componente login suddivisa già in package. In questo caso io ho aggiunto già dei CSS che andrò ad utilizzare, molto semplici, che mi permetteranno semplicemente di avere una login accentrata e magari con dei caratteri più grandi. Quindi è il momento di andare a rimuovere questo title login e andare a definire la nostra login, magari di andogli proprio quella classe main content che ci permetterà di averli accentrati. Poi uno span con username e uno span con password. Ancora anche qui una divisione. Molto bene, a questo punto andiamo immediatamente a vedere come sono stati accentrati, quindi username e password. Ed è arrivato il momento di utilizzare quelle che sono le componenti di prime phases. Quindi quello che ci serve in questo momento è un input di tipo input text. A questo punto andiamo a seguire la documentazione. Prendiamo questo import, abbiamo la necessità di importare questo modulo sempre in app module. Ecco che qui magari specifichiamo componenti prime ng, incolliamo e i moduli, se vi ricordate, abbiamo detto che li specifichiamo all'interno dell'import. Bene, a questo punto dopo aver fatto ciò andiamo a prendere l'import che ci interessa, connesso con l'ng model che ci permetterà di avere il data binding. E quindi andiamo alla nostra login, andiamo alla nostra login HTML e andiamo a specificare questo input. Anche qui andiamo a dargli uno spazio molto semplice. Un ng model sulla variabile username che andiamo a specificare subito all'interno del file Timescript. In questo caso password, però sarà di tipo password, giusto per far comparire i puntini, quindi il testo nascosto tipico delle password. A questo punto questo title login non ci serve più, però ci servirà un username di tipo string e un password sempre di tipo string. Ovviamente poi avremo la necessità di avere anche un metodo login che sarà void e magari in questo momento scriviamo semplicemente sono nella login, sono nella login. Bene, a questo punto andiamo a vedere effettivamente se la componente di prime è stata utilizzata. Ecco qui, magari qui mancava uno spazio. Andiamo ad aggiungerlo. Ok. Andiamo a vedere che la componente è stata, nel tempo di aggiornare, la componente è stata utilizzata. Prendendo anche gli stili da noi specificati. Ora, quello che ci serve è un bottone, un bottone che ci permetta di effettuare effettivamente quel login di cui abbiamo parlato prima. Ovviamente tutta questa riga non serve più utilizzarla, ci basta semplicemente il button module, in quanto da PrimeNG già utilizziamo un altro modulo e quindi continuiamo a scrivere qui, vogliamo l'input text module e il button module e ancora una volta lo andiamo ad importare. E poi, seguendo sempre la documentazione, utilizziamo questo button, andando ad aggiungere in fondo, con una label, magari accedi e qui abbiamo chiamato il nostro metodo login. Dovete notare come sia differente da Angular 1, non abbiamo più l'NG click, ma abbiamo questo semplice click. Andiamo a vedere effettivamente se il bottone c'è ed eccolo qui, è I'm in login, quindi effettivamente funziona. A questo punto, quello che ci interessa, tutto sommato, è realizzare quindi una vera e propria login. Magari in questo momento non facciamo un reale accesso al server, ma utilizziamo dei dati, utilizziamo un mock, all'interno del quale salviamo quelle che sono le nostre credenziali e quindi facciamo ancora una volta una sottivisione in package, typescript file, magari la chiamiamo usermockts. ma per poter utilizzare il mock, a questo punto direi di avere proprio un'interfaccia di tipo utente, in maniera tale da poterla sempre riutilizzare, sfruttando quindi typescript. e allora aggiungiamo, aggiungiamo quindi un nuovo, una nuova directory di tipo model, all'interno della quale abbiamo la nostra usermodel typescript, di tipo typescript, e facciamo un export interface, e lo chiamiamo proprio user, uno user che avrà sicuramente una username tipo string e una password di tipo string. Ok. A questo punto possiamo utilizzarlo proprio all'interno del mock. e quindi andiamo ad esportare una const user, che sarà di tipo user, in questo caso sfrutto sempre PHPStorm che mi fa l'import automaticamente, ed è proprio uguale, nel mio caso username sarà proprio postrick, password sarà ancora una volta postrick, voi inserirete ovviamente le credenziali che più ritenete congeniali. E a questo punto non ci resta altro che avere un servizio che piuttosto effettuare una chiamata al server, verifica attraverso questi dati se la login è stata effettuata in maniera corretta oppure no. E quindi abbiamo le pages, le model, mock, e aggiungiamo i services, quindi services, all'interno della quale abbiamo il nostro file typescript out.service, sempre tipo typescript, in questo caso è un po' differente dalle varie componenti, in quanto abbiamo la necessità, allora innanzitutto è un out service, ma abbiamo la necessità, come dicevo, di utilizzare il tag injectable, il cui import ovviamente viene fatto ancora una volta da solo. Il metodo che vogliamo avere in questo service sarà chiaramente il login, dove passeremo uno user di tipo user, ancora un'altra volta non dimenticate l'import, e quello che restituirà è una promise, promise necessaria per effettuare chiamate, per scrivere codice asincrono fondamentalmente, e poi con una callback ricevere il risultato. Quindi promise, restituirà una promise, un booleano fondamentalmente, quindi verifica se user, username è uguale a user.username, andiamo sempre ad importare, e al tempo stesso user.password, quindi quello che noi abbiamo passato al metodo, sia uguale al nostro user del mock.password, bene, se in questo caso è corretto, ritornerà una promise, un resolve true, eventualmente, else, abbiamo un return promise, resolve false, perfetto. Quello che adesso dobbiamo effettivamente fare è andare ad utilizzare, al posto di questo login, dobbiamo andare ad utilizzare il nostro servizio. E quindi, innanzitutto, salviamo all'interno di una variabile di tipo user, le nostre username, le nostre credenziali, quindi this.username e password, this.password, qui vuole l'import, perfetto. Dopo aver fatto ciò, abbiamo la necessità di avere un costruttore, constructor, private out service, di tipo out service, in questo caso ancora una volta l'import viene fatto da solo, e a questo punto dobbiamo richiamare questo out service, quindi this out service, il metodo l'avevamo chiamato login, li passiamo proprio user, e poi then, facciamo una callback, all'interno della quale salviamo nel result di tipo boolean il risultato della promise, e poi all'interno di questo corpo verifichiamo if result ok, facciamo un alert al momento, ok sei all'interno, altrimenti, alert, le credenziali sono sbagliate. non dimentichiamo che abbiamo aggiunto questo service, ancora una volta dobbiamo andare in app module, qui scriviamo services, e facciamo un import out service, from, ora ripercorriamo il percorso services, vediamo un attimo, non è login, ma è out service, perfetto, riprendiamo questo out service, se non dimentichiamo che i service vanno all'interno di providers, ok, a questo punto, vediamo un attimo, non ci sono errori, post trick, post trick, accedi, ok sei all'interno, proviamo a sbagliare le credenziali, e vediamo un attimo, le credenziali sono sbagliate, quindi il service sta funzionando. A questo punto vi rimando al tutorial successivo, in cui andremo ad approfondire questo aspetto del service, magari negheremo la possibilità di accedere alla login, nel caso in cui fosse già logato l'utente, oppure non poter accedere ad altre schermate, se prima non è passato dalla fase di login, quindi vedremo anche l'aspetto di navigazione tra le varie view. Alla prossima! Grazie a tutti!